Ti aspettavi un esordio diverso, un camponato dal primo minuto Davide? Sì, sicuramente abbiamo sbagliato, specialmente nei gol, dovevamo essere un po' più concentrati, però siamo all'inizio del giro di ritorno, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Raccontaci un po' che cosa è successo proprio in occasione dei gol, perché sul secondo e sul terzo gol li sono arrivati facilmente per vie centrali, poi il quarto sui calci d'angoli, il Pescara si sa com'è. Abbiamo preso due contropiedi, loro hanno comunque sia grosse qualità, ci hanno puniti, ripeto, dobbiamo essere più attenti nella fase difensiva. Non so se tu ascolti le conferenze che fa Zeman, ma conosci molto bene il mister, ha detto che non è ancora di Pasquale che volevo io quello di Foggia, perché? Io mi alleno tutta la settimana, duramente, poi il mister fa le sue scelte, le scelte vanno sempre rispettate, quindi non c'è nessun tipo di problema. Assolutamente, ma tu ti senti ancora lontano dal miglior di Pasquale o ti senti al 100%? No, no, io mi sento bene, mi sento bene, ho svolto, logicamente non ho fatto il ritiro, però mi sento bene ora. Quale deve essere adesso l'obiettivo di questa squadra? Anche pensando che c'è un big match, considerate i nomi Pescara e Perugia la prossima settimana, però se si vuole arrivare al terzo posto non si può più fallire. Sì, assolutamente, dobbiamo essere più concentrati, non dobbiamo più permetterci passi falsi, ripeto, il girone di ritorno è ancora lungo, quindi abbiamo tutto il tempo per migliorare la nostra classifica. Do l'auricolare Massimo a Davide Di Pasquale, così ti ascolta e può rispondere alle tue domande da studio. No, intanto volevo chiederti a Davide Di Pasquale, intanto buonasera Davide, ecco volevo chiederti, tu hai sottolineato che bisogna stare più attenti nella fase di un possesso, oggi effettivamente, insomma, il Pescara ha subito quattro gol, non era mai accaduto in questo campionato, è stato un notevole passo indietro sotto questo profilo? Sì, nei momenti di difficoltà ci dobbiamo difendere meglio, loro in contropiede sono molto bravi e quindi gli abbiamo concessi troppi contropiedi, punto dico c'è da migliorare, sicuramente già da domani prepareranno la partita di Perugia con altro atteggiamento.